Ho un e-commerce di olio, è un'iniziativa mia e ho fatto degli investimenti in e-commerce verticali, sempre nel food e volevo formarmi, volevo capire meglio alcune dinamiche e credo di essere nel posto giusto. Generalmente ho trovato dei relatori efficaci nei loro discorsi, sinceramente in certi casi avevo voglia di approfondire ulteriormente, forse non è questo il caso perché in tre giorni non si riesce a far tutto, ma forse lasciano l'aquilino in bocca per farti tornare, ecco. Dunque è una strategia. A chi vuole vedere le cose un po' dall'alto, ma sapendo di quel che sta parlando, per cui evidentemente non è un corso super specialistico, ma è un corso che ti offre gli strumenti per prendere decisioni sapendo di quello che stai parlando. Poi l'imprenditore avrà sempre bisogno del consulente o dello specialista, ma conoscendo l'argomento riesce comunque a gestire meglio il rapporto con il consulente esterno.